L'intera provincia di Teramo si sta preparando ad accogliere le migliaia di profughi ucraini in fuga dalla guerra. Stanno arrivando alla spicciolata con autobus ma anche con mezzi privati. Teramo capoluogo prevede che almeno mille di loro possano cercare rifugio in città. È urgente dunque organizzarsi al più presto. Il prefetto Massimo Zanni ha immediatamente convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Diocesi, l'Asl e i comuni del territorio provinciale per coordinare le iniziative destinate a fornire ospitalità a tanti nuclei familiari senza nulla da mangiare o da indossare. Intanto è partita così una gara di solidarietà tra le numerose associazioni di volontariato per la raccolta di beni di prima necessità. A Teramo saranno utilizzati i grandi capannoni della Villeroie Boc per mettere insieme tutto il necessario a questa gente privata di tutto. Si cercano poi case e alloggi per poter dare un tetto soprattutto a donne e bambini. A Giulianova il Comune e la Protezione Civile stanno effettuando la raccolta al centro polifunzionale Pioppi. Serve cibo lunga conservazione, vestiti caldi per i più piccoli, asciugamani e prodotti per l'igiene. La Croce Rossa di Teramo, in gemellaggio con quella della Polonia, ha raccolto principalmente medicine da inviare in terra ucraina. Il primo convoglio è già partito da Vezzano. Tra le proposte degli enti teramani messe sul tavolo del prefetto Zanni per attivare un'immediata accoglienza ai profughi in arrivo, c'è anche quella di riutilizzare le case cantoniere, disabitate da tempo ma ancora perfettamente agibili. Un grande aiuto sarà chiesto alle parrocchie e alla Caritas di Teramo che gestisce diversi immobili in provincia. Ma sono state le piccole comunità di Ucraini presenti sul territorio ad ospitare per prime i profughi e saranno loro a fungere da collante tra gli scampati e le istituzioni locali.